Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e volevo farvi vedere Proth Cuore Nero a livello 3 ragazzi! Sbloccato in questo momento davvero meraviglioso! Finito la voce sugli oso, lo andiamo un attimo a vedere ragazzi! Vi ricordo, per avere Cuore Nero a livello 3 servono, ve lo dico subito, datemi un secondo ragazzi, 40.000 punti esperienza! Lo andiamo un secondo a vedere nell'armadietto! Davvero OP ragazzi! Guardate che storia! Gli si forma l'uncino, gli si forma e anche la gamba di legno! Insomma ragazzi, già nella fase 3 è tanta tanta roba! Vi ringrazio per aver guardato questo video velocissimo! Noi ci vediamo presto! Ciao! Noi ci vediamo! 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 Grazie a tutti.